Buongiorno, oggi, martedì 18 gennaio, il rito ambrosiano celebra la Cattedra di San Pietro. Fin alla riforma liturgica, nel calendario tanto romano quanto ambrosiano, erano previste due feste della Cattedra di San Pietro. Una appunto al 18 gennaio, la Cattedra di San Pietro in Roma, e il 22 febbraio la Cattedra di San Pietro in Antiochia. Con la riforma del rito liturgico dopo il Vaticano II, il doppione venne eliminato, ma con il nuovo lezionario e il nuovo calendario ambrosiano, il rito ambrosiano ha preferito scegliere di nuovo la data del 18 gennaio, che si colloca così all'inizio della settimana di preghiera per unità dei cristiani, e sottolinea il ruolo di unità che è rivestito dal compito di Pietro, e quindi al Papa di Roma, successore di Pietro. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai Suoi discepoli, la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero, alcuni dicono Giovanni, il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Dice loro, ma voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse, beato sei tu Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli, e io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore. Gesù, siamo nel capitolo sedicesimo di Matteo, quindi siamo circa a metà del ministero di Gesù, Gesù pone ai suoi discepoli la domanda fondamentale. Voi, chi dite che io sia? Sì, perché le risposte della gente colgono un aspetto vero, parlando di Giovanni Battista, di Geremia, di qualcuno dei profeti, si citano personaggi già morti, e quindi che in qualche modo sono tornati sulla terra. Quindi comprendono che Gesù ha a che fare col divino, ha una potenza che non è semplicemente umana, ha un'autorità che viene dal cielo. Ma in che modo gli si è data questa autorità? Chi sia lui per davvero, la gente non lo comprende. E se fu facile per i discepoli prendere la parola e riferire i pareri della gente, quando Gesù pone voi, chi dite che io sia, quando pone la domanda decisiva, i discepoli restano amutoriti. Ed è Pietro, illuminato dallo Spirito Santo, che dice tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Parole vere, parole sante, parole che dicono la fede di Pietro e la fede della Chiesa, la verità su Gesù. Egli è il figlio del Dio vivente, egli è il Cristo, il Messia, preannunziato dai profeti. Ed ecco la beatitudine che fiorisce sulle labbra del Salvatore. Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E a te dico, tu sei Pietro. Tu sei il Cristo, tu sei il Pietro. In questo parallelismo letterario si nota come Gesù coinvolga Pietro nella sua stessa autorità. Pietro quindi diventa vicario di Cristo, lo diventano tutti i successori di Pietro. Preghiamo per il Papa, perché possa svolgere con fedeltà il compito che gli ha affidato e possa guidare la Chiesa alla vera fede, professando di fronte a tutti gli uomini tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Preghiamo per la Chiesa, perché possa essere più capaci di evangelizzare il mondo intero e di testimoniare con luminosità la verità della fede che salva, la verità della fede cattolica. Preghiamo per l'unità di tutte le Chiese in questa settimana di preghiera, perché quando ci avviciniamo di più a Cristo e ci uniamo davvero a Cristo, siamo più vicini anche tra di noi. Preghiamo gli uni per gli altri affidandoci alla misericordia del Signore. Buona giornata, sia lodato Gesù Cristo.